gli emendamenti è opportuno e saranno presto chiamati a esprimersi. Chiedo a questo punto intanto al relatore di maggioranza e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative accantonate nonché sull'emendamento 6.550 della Commissione. Buongiorno Presidente. Buongiorno, prego. 6.550, pagina 1, parere positivo. Parere favorevole. Poi pagina 2, il 6.22, parere favorevole. Gli altri parere contrario. Perfetto. Allora. Allora. Che cosa c'è, onorevole Baroni? Allora, onorevole Quaranta e onorevole Lombardi, il relatore di minoranza. Allora, siamo al 6.550 della Commissione. Mi metto all'Aula. Aula, 5 stelle. Aspetti un attimo che lo devo trovare. 6.550. Questo è anche sul vecchio fascicolo, onorevole Lombardi? Cioè, c'era ieri anche. Mi sa aiutare sul vecchio, dove era? Era distribuito ieri, a parte, come tutti gli altri emendamenti della Commissione. Quelli del relatore sono qua, ma non lo trovo. 6.550? 6.550. Come si sono quelli del relatore? Grazie. Un 6.550. Passiamo oltre, poi se lo trova ci dà il parere. C'è il 6.22 dell'onorevole Fabri. Onorevole Quaranta. Mi rimetto all'Aula. Aula. Grazie. Grazie.